Allora, a conferma di quello che abbiamo appena detto nell'intervista della presentazione della denuncia contro la Fiat e contro tutto il Parlamento per l'appropriazione privatistica di un bene pubblico, di una dimensione assoluta. Qui oggi con Giorgio vediamo e analisiamo alcuni altri aspetti e alcune altre situazioni contestuali a quello che abbiamo detto. Sì, ma a conferma di quanto abbiamo detto. Allora, la prima cosa, giusto per farvi vedere cari amici in quale mondo viviamo, questa è la rivista Gli altri animali. Cosa si nasconde dietro l'uccisione di Daniza? La maggioranza delle persone pensa che l'uccisione di quel povero orso, che tra l'altro era stato introdotto perché giustamente doveva essere introdotto l'orso in quei territori, e pensano che questa morte sia stata dovuta a spietatezza innata di qualcuno e crudeltà naturale di questi umani. Se mi capita un orso davanti io non scappo. No, no, è tutto provocazione, adesso lo spiegliamo. Chi è sta gente? Allora, ovviamente qui c'è tutto un articolo che denuncia gli soldi di interessi che stanno dietro le operazioni di chi sta al governo. Noi ovviamente ne leggiamo solo una parte. Ma siccome pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, un'analisi più accurata evidenzia due aspetti. Innanzitutto occorre sapere che il parco Adamello Brenta ha partecipato al progetto Life Ursus per il ripopolamento degli orsi finanziato da fondi europei e, curiosamente, in quel periodo non si ebbe notizia di un cun fungaiolo eroe. Il progetto, terminato nel 2004, garantì ricadute positive per l'area interessata e così le autorità italiane propongono un nuovo progetto per la conservazione dell'orso bruno. Nel 2010 il progetto Life Actors viene approvato, ma esso prevede una differenza rispetto al Life Ursus. Lo Stato italiano deve confinanziare il 32% dell'azione, attenzione, circa 1 milione e 300 mila euro. Così, dopo aver intascato i fondi europei e giunto il momento di aprire il portafoglio, ecco che spunta fuori Daniele Maturi e con lui tutti i rischi derivanti dalla presenza di orsi improvvisamente pericolosissimi. L'emergenza per l'incomunità pubblica e la conseguente necessità di riflettere sul progetto e sul proseguimento del progetto Life Actors. Il secondo aspetto riguarda le probabili conseguenze qualora il progetto volto al ripopolamento degli orsi venisse interrotto. Possiamo ragionalmente ipotizzare che verrà legittimata la caccia a questo splendido animale e le migliaia di cacciatori della zona e le loro famiglie e chi guadagna da questa attività garantiscono un bel bottino di voti alle elezioni locali. Chiaro? In conclusione voglio essere costruttivo e proporre alle istituzioni una strada alternativa, dice l'autore. Cosa succede in un paese normale e dunque quali sono le buone pratiche alle quali l'Italia dovrebbe ispirarsi? Dovrebbe, non si è mai ispirato, soprattutto a quest'Italia. Anzitutto in un paese normale il fungaiolo, che ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi che ha frequentato, viene sonoramente multato per aver disturbato un animale protetto. Inoltre le autorità locali predispongono adeguati segnali per i turisti e per chiunque dovesse ritrovarsi in aree abitati da animali selvati. Inoltre a partire dalle scuole tutti gli uffici pubblici offrono ampio materiale informativo ed educativo al fine di garantire una pacifica convivenza tra uomo e animale e di sviluppare attività economiche belle e sostenibili. Questo avviene nei paesi civili con lo scopo di tutelare l'integrità umana attraverso la protezione degli animali e non viceversa. Quindi questo è quello che noi sappiamo della classe politica italiana. Va detta una cosa importante, che contrariamente a quello che è l'impressione dominante nella popolazione, gli orsi sono intanto già addomesticabili e la dice lunga sulla pericolosità dell'animale. Oddio, li hanno addomesticati mali, quei mascalzoni che andavano in giro nelle piazze nel Medioevo. No, lascia stare, non parlo di questo. Io personalmente avevo un amico che aveva un orso e io ci ho giocato più di qualche volta, un bell'orso da un metro e venti di altezza. Esattamente. Quindi l'orso è pericoloso se viene isticato, provocato, perché è un animale, giustamente si difende. Quando l'Italia doveva pagare, e doveva pagare una bella cifra, l'orso è diventato pericoloso. È cattivo. È detto lì, i soldi se li sono messi in tasca loro e hanno mandato il fungaiolo vestito, hanno mandato il fungaiolo che è un omone perché apposta, dice un altro piccolo non avrebbe avuto il coraggio. Gli hanno detto ti diamo quei 500 euro, vai raccogliere. Gli hanno detto anche 2, 3 mila o 5 mila. 5 mila, 5 mila, vai raccogliere le cose e basta che crei l'allarme. Questa è la realtà e noi la vogliamo dire. Poi adesso da questo numero molto interessante, da cui prenderemo in seguito altre cose, perché qui ci sono, nel tuo po' di meno che le dichiarazioni di Dolman su chi effettivamente ha lavorato dietro le quinte. Io conoscevo le figlie. Sì, ve l'hai detto. Allora, c'è però... Si faceva passare per inglese, eh? Molto interessante. Si faceva passare per inglese. Sì, sì, lo so, ma hai detto tutto? Sì, sì, ecco che no. C'è qui un articolo di Alessandro Vitale, si chiama quasi come mi chiamo io, e vediamo che questo Alessandro Vitale, io qui non lo vedo, parassitismo politico e stato moderno, qui non c'è, e va bene, è lo stesso, sarà sicuramente un uomo di cultura. Allora, ah, è qui, Alessandro Vitale, ricercatore in relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Milano. Parassitismo politico e stato moderno. Allora, questi sono quelli che ci governano oggi, i vari Renzi, perché Renzi è politico, ma fa parte di quella casta lì. A un grosso numero di cittadini viene imposto di lavorare per mantenere gli altri. La crescita dei bisogni e gli impegni assunti spingono la classe politica a circondarsi di un esercito di funzionari e di burocrati. In tal modo il parassitismo diventa la faccia nascosta dello Stato moderno. E questa è la verità. Ma c'è una logica che io voglio leggere, perché la logica... La fine è quella dell'orso di prima. Esattamente, ma io sto facendo vedere come ci stanno tutte queste stranissime coincidenze. Il parassitismo economico si collega... A quello morale. Esattamente. A quello morale e a certe modalità comportamentali che facciamo vedere qui. Alle conclusioni. Quando il cittadino italiano, di cui buona parte sono anche questi parassiti, vede la televisione che Mario Monti, Letta e questo stronzo qui fanno delle grandi promesse, e dice, oh cazzo, queste faranno... Le stanno fanno niente, perché per qualsiasi norma di legge... Il nuovo epitodo per Matteo Renzi è l'annunciatore. E appunto. Allora, come gli apostoli dell'atteso. Annunciatore del Veda, buona novella. Che significa? Ma che è la buona novella? Io annuncio. Sì, allora, io annuncio, annuncio pure, se vuoi... C'è brutto, arriva il momento per tutto. Allora, conclusioni, il parassitismo è dunque la faccia nascosta dello Stato moderno come impresa di potere. Intendiamoci che noi siamo favorevoli al progetto ambivalente di socializzazione e nazionalizzazione, perché la componente nazionale, cioè anche burocratica, statale, nell'opera di socializzazione deve essere fondamentale, ma la budget deve essere la socializzazione. Il principio mazziniano, lavoro e proprietà nelle stesse mani. Va bene? La piccola proprietà terriera come facevano la Repubblica. Quando qui a Veio, come ricordiamo sempre, noi siamo qui a Veio, abitando qui vicino, lì c'è l'ingresso dell'acropoli, della città alta e della piazza d'armi là sopra, qui esisteva, quando Furio Camillo conquistò nel 396 a.C. Veio, aveva ben chiaro quello che faceva. Intanto faceva la guerra in forma semiprivata, come si diceva allora, perché ognuno dei milites si era spesato da sé e quindi aveva parte. Era anche coinvolto nella conquista. No, nella conquista e nel bottino. Esattamente. Il bottino consisteva, come poi definì il Senato, in tre ugeri e mezzo di terreno. Che non poteva essere altro che quello, che quante buoi vuoi che ci fossero, quante vacche vuoi che ci fossero, quanti somali o cavalli vuoi che ci fossero. Tre ettari e mezzo erano tutto il territorio dello Stato di Veio, del governo di Veio, diviso per i milites che avevano combattuto. Esattamente, e questo si chiama socializzazione. Ab inizi, proseguo. Il parasitismo è dunque la faccia nascosta dello Stato moderno come impresa di potere. Erano non solo la socializzazione, ma erano anche i coloni, cioè sul territorio, controllavano il territorio, controllavano le possibili rivolte che avrebbero fatto i vinti. Esattamente, come è avvenuto ad esempio nella Piana Padana. Certo. La pianura padana è proprio questa come struttura mentale che poi è rimasta, è sopravvissuta, malgrando le interferenze dei papi, è sopravvissuta nei secoli, mantenendo una mentalità fortemente socializzatrice anche ai giorni d'oggi. Tant'è che oggi abbiamo i comunisti al potere da 60 anni, 70. Lì c'è stato appunto un altro discorso, perché i cattocomunisti non sono i comunisti e tantomeno sono socialisti. Sappiamo bene, sappiamo bene. Allora, nella sua forma contemporanea lo Stato si è trasformato nello strumento mediante il quale a un gran numero di cittadini viene imposto di lavorare per mantenere gli altri. Con la crescita dei bisogni e i correlativi impegni assunti, le classi politiche si circondano di un esercito di impiegati dediti a funzioni tributarie, regolative, distributive, manutenti grazie all'appropriazione di una quota sempre maggiore di ricchezza. Non solo di ricchezza, ma di diritti del cittadino. Che prima erano del cittadino, adesso vengono arrogati allo salto. Per cui quando tu vedi la sordità degli enti che dovrebbero tutelare la giustizia... Gli interessi del cittadino invece sono i primi persecutori del cittadino. Esatto, perché hanno questi interessi, questi si identificano con questi interessi. E' come c'è della magistratura. L'enorme concentrazione di risorse dei cittadini nella disponibilità dei governi moltiplica l'appetibilità dell'ammontare, l'intensità della lotta politica per controllarla. Le occasioni di incontrollato parassitismo. La bola imponente delle spese e delle contribuzioni crea dipendenza dei cittadini in quanto dispensando o rifiutando le elargizioni... Ecco, perché ci vuole la rivoluzione. La rivoluzione deve essere nell'intimo delle cose... Se no la rivoluzione non la fai mai. O rifiutando le elargizioni, i trasferimenti... La prima rivoluzione è quella ideologica. Esattamente. E' possibile... Come diceva Mao Tse Tung. Attento, questo è importantissimo. E' possibile anche assicurarsi l'obbedienza e la dipendenza con conseguente aumento di potere e di arroganza. C'è scritto tutto, di un'archerenza estrema. che si traduce in facoltà di sottrarre risorse dalle tasche di alcuni per trasferirle in quelle di altri, trattenendone una quota enorme alla disponibilità di chi comanda e amministra. Il sistema del welfare consente a gruppi organizzati di rivendicare il diritto di soddisfare esigenze ristrette a spese dell'intera società, in forma parassitaria, rafforzando così anche inesorabilmente il potere politico che agisce per loro. Si tratta di parassitismo abilmente occultato che induce la stragrande maggioranza dei cittadini a pensare che l'autorità politica sia la depositaria della sapienza economica, arbitra e deputata esclusiva alla gestione... Quando noi invece sappiamo perfettamente che è l'esatto contrario. Esattamente l'esatto contrario. Ecco perché gli strati intellettuali rafforzano questa mentalità presentando come ovvi i compiti della finanza pubblica e il ruolo attivo dello Stato come allocatore di risorse, redistributore di ricchezze, stabilizzatore del ciclo economico, tutti i compiti che hanno storicamente prodotto l'allargamento della sfera d'azione del settore pubblico e della burocrazia, fino alla gestione politica di oltre la metà delle risorse prodotte. Le classi politiche sanno bene che, come è sempre accaduto nella storia, nelle condizioni nelle quali i rapporti di mercato sono ridotti al minimo, gli uomini, non avendo alternative a portata di mano, attenzione, sono più disposti all'ubbedienza. Ecco quindi cos'è la confluenza di interessi tra il potere finanziario e il potere di questi politici. L'ammassimento delle somarie avviene attraverso il digiuno. Esattamente. Cioè tu l'animale, selvatico o meno selvatico, lo addomestici tenendolo a fame. Esattamente. Quando lui cerca di liberarsi lo affami. Dopo tre giorni di dare a mangiare è quello di lecca la mano. Esattamente. Esattamente quello che sta avvenendo oggi. Meno quelli che si suicidano, che non hanno capito un cazzo. L'ho detto, vai a suicidarli, non a suicidarti. Quando invece gli scambi si moltiplicano con reciproco vantaggio, tanto più cresce l'opposizione a un'obbedienza incondizionata al potere costituito. L'estensione della sfera pubblica viene presentata come strumento di equità sociale ma nella realtà è un'arma dei ceti parassitari per aumentare il proprio potere. Aug, aug, aug. Parli troppo, aug, aug. Sì. Allora, qui ce ne sta un'altra. Questa splendida rivista di cultura romana. La civiltà romana primitiva è quella che è fatta Grande Roma, non quella successiva. E allora leggiamo una piccola frase. Cornelia era la base della romanità. Lo Stato di diritto non è legittimo. È l'illegalità e l'ingiustizia che si è costituita in ordine capovolto a proteggere l'individuo libero, tra virgolette, nella sua anarchia, nella sua pretesa di giurisdizione individualistica, nel suo orizzonte esclusivamente materiale e contrattuale relativo. Ogni azione ed ogni espressione sociale è ormai un evento di scandoloso ingiustizia. Che anche la gran parte dei non versati nelle scienze giuridiche riconosce in modo stridente e lampante, essendo ormai questa pseudo giurisdizione estremamente lontana anche da qualsiasi riferimento naturale. La pseudo società attuale è un aggregato molto labile di individui che ogni giorno vede allentare sempre di più le corde dei vincoli superiori che debbono garantire il bene pubblico con la costante delegittimazione dell'intervento giurisdizionale dall'alto e della conseguente giustizia. Ecco la depenalizzazione, il garantismo, la liberalizzazione, eccetera. Dove dimostra come esiste una possibilità di intervento, ma l'intervento è giusto se espirato dai grandi principi fondanti della Romanità. Se no, se è un intervento a base di burocrati che vivono esclusivamente di parassitismo, è esattamente contrario. Poi farebbero a fare il suicidio personale. È quella la faccenda. La società diviene, così, un ente sempre più privo di limiti penali e giuridici. Un ente bestiale fatto di impulsi incontrollabili. Lo vedete tutti i giorni, lo vedete sotto gli occhi. Queste sono le persone. Le maschere della persona. Le maschere della persona. E questi input susseguenti, subentranti, che noi vediamo tutti i giorni sotto forma di proposte di leggi assurde, sotto forma di manifestazioni irrazionali, di eccessivo irrazionalismo, come il gay pride, eccolo qui che è scritto. La società diviene, così, un ente sempre più privo di limiti penali e giuridici. Un ente bestiale fatto di impulsi incontrollabili e mostruosi, che nessuno più tiene a freno e reprime quando sia il caso che segue l'utile allucinatorio dell'istinto. Non vi sarà scampo in questa direzione ad una progressiva ascesa delle barbarie, sempre più brutta, se non si mette mano ad una revisione profonda del diritto e delle sue funzioni principali, quella civile e pubblica e quella penale, ripristinando progressivamente le sue forme e funzioni superiori e contemporaneamente diffondendo una vera cultura della legalità e della giustizia, che loro non potranno fare mai, che i nostri contemporanei parassiti, come abbiamo detto prima, non faranno mai perché sono parassiti naturalmente. Sono coinvolti. Chiedi a una pulce di curare un malato, la pulce gli succhierà il sangue, tu la pulce la devi schiacciare, punto e basta. reintegrando realmente gli individui a una dimensione personale, dimensione capace di istituirsi solo, se si recupera una vera identità religiosa e metafisica trascendente, conforme al proprio genio patrio romano italiano. E con questo io sto per concludere. Altre cose che volevo dire le dirò un'altra volta, perché devo concludere con questo. Questo è il giornale dei preti, avvenire. Allora qui la corte ha condannato una povera ragazza per blasfemia. Allora loro pronti, e blasfema la corte che l'ha fatto. Ma scusate voi preti, non avete fino a pochissimo tempo fa ammassato, bucciato, torturato, ancora adesso. Ricordiamoci l'Argentina, ricordiamoci Francesco Primo. Esattamente, e allora, che cosa, falsi, falsari, ipocriti, come diceva Gesù Cristo, sepolcro inviaccato. Ciò non toglie ovviamente che anche noi siamo per salvare la vita questa ragazza, ma noi lo possiamo dire, voi no. È chiaro. Basta così. Stengo di aver finito. Bene, ciao a tutti.